Rimane sempre chiuso al traffico il lungomare di San Gregorio dopo la mareggiata di lunedì scorso che ha messo in ginocchio la costa di Capodorlando da Levante a Ponente. La frattura al muraglione di contenimento nel tratto dello scoglio Garibaldi e lavoraggine createsi sull'arteria richiederanno parecchi giorni di lavoro oltre ai fondi necessari per l'intervento. E' la città metropolitana di Messina, deputata a intervenire perché è proprietaria dell'arteria e potrebbe farlo grazie a alcuni lavori di manutenzione delle strade provinciali già programmati, di cui uno prevede la manutenzione del tunnel ubicato a pochi passi dalla strada in emergenza. La chiusura dell'arteria ha messo in ginocchio la circolazione stradale ad est di Capodorlando perché per raggiungere il borgo di San Gregorio e il porto di Bagnoli bisogna allungare il tragitto di quasi 5 km passando per la bretella della strada alle 116 e poi dalla 113 la Messina-Palermo. Sul lato opposto del territorio paladino si lavora invece per lenire le ferite della mareggiata che hanno messo in ginocchio anche i lungomari Ligabù e Tavola Grande. Ambe due le arterie dovrebbero riaprire al traffico entro oggi. Il sindaco Franco Ingrilli, dopo aver attivato il centro operativo comunale della protezione civile, ha chiesto aiuto alla struttura commissariale della regione per i rischi idrogeologici che aveva già ricevuto la richiesta del gruppo parlamentare Pentastellato per la dichiarazione dello stato di calamità naturale di tutto il territorio provinciale interessato dalla mareggiata. Sono stati infatti due giorni di autentico inferno meteorologico per la zona di Capodorlando. Una coincidenza meteomarina così sfavorevole non si presentava da decenni. Prima un forte vento da sud-ovest, l'Ibeccio, successivamente il Maestrale per produrre lo scompiglio sul lungomare. Ma non è finita qui perché per la fine dell'anno, se le previsioni non dovessero mutare, il mare dovrebbe far sentire nuovamente la sua voce e questa volta da tramontana. Sarebbe ancora rischio il lungomare per San Gregorio e il borgo dei pescatori che in questi giorni hanno pagato un conto davvero alto. Tutti gli stabilimenti balneari da Levante a Ponente sono stati distrutti o hanno avuto danni ingentissimi. Basti pensare all'ido no limits dell'associazione a favore dei portatori di handicap, letteralmente cancellato. A testa di Monaco le onde sono entrate dentro alcune villette. Qui la situazione è allo stremo e lo ha dimostrato l'emergenza sulla linea ferrata, in territorio di Naso, dove la circolazione è stata interrotta per due giorni, perché le onde avevano superato i massi naturali che difendono il rilevato, mettendo a repentaglio la stabilità dei binari. Sul lungomare Doria il comune ha dichiarato non agibile il Palavalenti, dalla cui volta del soffitto è caduto sul perché un pezzo di pignatta, per fortuna lontano dai bambini che si stavano esibendo in un saggio ginnico. Proprio oggi i tecnici comunali, che escludono rischi maggiori e imputano l'incidente all'infiltrazione d'acqua piovana,